Rinban Biden ha già parlato con Giorgia Colmelone e ha detto, dopo Napoleone, Giorgia Colmelone! E lei si è fatta convincere, butterà duemila morti sul tavolo della pace per spartire il ricco bottino della vittoria contro la Russia. Ma per fare questo, caro David, la popolazione italiana ha bisogno di un mito, un mito, la rappresentazione immaginaria della volontà di un popolo. Per cui, David, qui scatterà la tua idea. Sto parlando del premio Stepan Bandera, ma è un'idea geniale, eh! Ma è stata tua? No, no, non che dubiti, no, no, non è che dubito, ma siccome ti ho sempre sentito la zanzara e le uniche cose che dici sono c***o, p***a, c***a, e mi sembra anche un po', no, vabbè, vabbè, il premio Stepan Bandera è la tua idea, ci mancherebbe altro, ti diamo credito, va bene?